Stasera sono molto contento, finalmente abbiamo ritrovato un po' il nostro modo di stare in campo dopo la bellezza di tre mesi, da quando abbiamo dovuto star fermi per un mese e mezzo per via della pandemia, è stato molto duro recuperare, avevo qualche timore nell'arrivare pronti a questo appuntamento però devo dire che le ragazze sono state molto brave a ritrovare le energie e la convinzione in se stesse e hanno saputo lottare palla su palla per portarci a casa questa vittoria meritata e anche abbastanza sofferta e devo fare chiaramente i complimenti al nostro MVP che oggi è stato Piantoni, vieni Piantoni! Grazie Ha fatto la bellezza di 14 punti per la maggiore Le Fast, che la squadra avversaria è stata molto in difficoltà ad intercettare come ti sei trovata con Clara su Le Fast? Sì, molto bene, mi sono divertita e l'importante è questo, insieme alla mia squadra fino alla fine abbiamo lottato tutto insieme e quindi sono soddisfatta Esatto, sottolineo anche io il concetto di squadra perché oggi devo dire che ha vinto l'insieme nonostante lei abbia fatto comunque la differenza nei punti perché anche le sostituzioni che sono state fatte con Tomasi un attimo su Salvetti ha comunque portato beneficio e anche con Bertoletti al servizio e sul giro dietro quindi questo è un grandissimo risultato, una grandissima soddisfazione dell'insieme e niente, siamo veramente tutti quanti soddisfatti anche perché abbiamo vinto una partita datoci perso un po' da tutti, quindi è una grandissima soddisfazione Grazie